che nella storia del mondo abbiamo scritto 120 milioni di libri. Di questi 120 milioni molti sono ancora esistenti nelle biblioteche delle università del mondo e Google da 10 anni, quindi, ci ha un programma molto molto sofisticato per scannerizzare tutti i libri esistenti. Ed ha dei soldi in università, una dopo l'altra, porta delle macchine costruite apposta, delle persone ad estate apposta, ha del software, è tutto fatto apposta, hanno speso un miliardo e scannerizzano questi libri in tempi rapidissimi e li tiene. Che succede quando abbiamo un meccanismo che si è letto 30 milioni di libri? Li ha collegati, li ha distillati, in tutte le lingue. Questo è, per definizione, il tipo di cose che si chiamano sovrumane. Ciao a noi e benvenuto al podcast. Senti, tu ti occupi da tanti anni di intelligenza artificiale e nell'ultimo periodo è arrivata alla conoscenza popolare, insomma generalista, il fatto che l'intelligenza artificiale ha fatto grandi progressi e tu racconti anche nei tuoi libri come questo sia dovuto a una sorta di cambio di paradigma che è avvenuto in realtà diversi anni fa, cioè passare dall'idea di macchine che si programma, l'intelligenza artificiale che si programmano con delle regole, ha invece un modello con delle macchine che si educano o addirittura si educano da sole, le reti neurali. Ecco, come nasce questo cambiamento? Quando nasce? Che poi è quello che porterà all'espressione che tutti conoscono di più, che è c'è GPT, ma in realtà sono diverse variabili, diverse varianti, però è proprio il modello la cosa interessante che tu hai affrontato molto spesso nel tuo lavoro. Ma ci sono due cambiamenti importanti che sono avvenuti insieme perché sono collegati ma sono separati, quindi da un lato abbiamo dovuto capire cos'è l'intelligenza, perché qui c'era un malinteso che ci ha un po' impedito allo sviluppo, come spesso succede, un malinteso anche culturale, ti può rallentare il progresso perché insegui un'idea impossibile. E lì si è capito nel tempo cos'è l'intelligenza veramente, e ne parleremo fa un minuto. E poi anche l'idea di cosa sia accettabile come strumento per costruirla. Ecco, hai ragione a dire paradigma, perché per fare i pedanti, chi si occupa di queste cose parla di paradigmi, cioè chi si occupa di storia della scienza. Quando cambia il paradigma, cioè il modello corrente, cambiano proprio queste cose qua. La definizione... La definizione delle evoluzioni scientifiche di Kuhn. Sì, ma cambia proprio la definizione di cosa vogliamo fare e di come lo vogliamo fare. Ed è cambiato. Trent'anni fa, venticinque anni fa, dai. Abbiamo intanto fatto un passo banale, che è questo. Gli esseri umani non sono l'unico esempio di intelligenza. Ed è importantissimo questo passo, perché si è tentato a lungo di creare macchine intelligenti riproducendo un essere umano, riproducendo quello che noi pensiamo gli esseri umani facciano, che poi non lo sappiamo, tra l'altro. Introspezione è il modo peggiore di pensare. Mediante introspezione si cerca di capire come io ragiono e poi di implementarlo. E non ha funzionato. Quindi uno si è capito... E' un po' il metodo filosofico, in un certo senso, almeno di alcuni filosofi, no? Perché abbiamo un bel gatto, no? Adesso non si vede, ma bastava chiedere a un biologo, a un veterinario, cos'è l'intelligenza. Loro lo sanno, il biologo lo sa. La gallina è intelligente per attraversare la strada senza farsi colpire. L'intelligenza esisteva sul pianeta nostro ben prima di noi. Senza linguaggio, né cultura, né arte, né musica c'era intelligenza. C'erano animali che si inseguivano, che scappavano, che si nascondevano. Lavoravano in gruppo dei dinosauri, quindi dovevano in qualche modo comunicare, fare dei piani per riuscire a perseguire loro. L'intelligenza esiste, ma da centinaia di milioni di anni, prima che la prima parola. fosse stata pronunciata. Capire questo è un passo, no? È una forma di rivoluzione copernicana. Non siamo noi il centro dell'universo, in tanti modi anche in questo. E poi accettare qual è un metodo socialmente accettabile, ben educato, accettabile. Abbiamo smesso di tentare di fare queste teorie esplicite, logiche, matematiche, come si fa invece benissimo per la fisica. Ecco, per l'intelligenza questo non c'è. Abbiamo presunto stata finalmente, pragmatica, basata sulla statistica. Questi due cambiamenti, che possiamo discutere dopo, cosa vogliamo ottenere e come lo vogliamo ottenere, sono un cambiamento di paradigma che ha veramente modificato la nostra disciplina. Tu fai un esempio nella scorciatoia di questo ricercatore che comincia a lavorare su questo nuovo paradigma, dice io più linguisti licenzi o meglio funziona l'intelligenza artificiale che stiamo sviluppando. Questo, in realtà, quello che vuole dire è che appunto tentare di dare delle regole proprio per quelle cose che dicevi tu, per quei limiti intrinsechi della nostra percezione, può essere poi controproducente. E quindi fondamentalmente come funziona la macchina che autoprende? Forse è meglio fare un passo per partire dall'inizio. Altrimenti si parla della fine, no? Sì. Io soffro sempre quando penso alla storia dei tre porcellini. Si dice, ah, ok, ragioniamo un po' sulla casa di mattoni. Perché ha funzionato? E quello che ascolta dice, ma dov'è la storia? La storia è la casa di paghi, la casa di legno, il gruppo cattivo, la mamma, i consigli, e poi la casa di mattoni. Partiamo dall'inizio. Vogliamo costruire una macchina intelligente. Abbiamo tentato per anni di emulare in qualche modo un po' anche maldestro il lato più superficiale della intelligenza umana. Quindi, primo momento introspettivo dell'informatico medio, cos'è la cosa più intelligente che io posso fare? Dimostrare i teoremi. E quindi adesso facciamo una macchina che dimostra i teoremi. Questo era il 1956, 55, c'era già il primo dimostratore di teoremi nella logica, del logic theorist. E questo ci dice già cosa aveva in testa l'informatico medio in quegli anni. Dimostriamo i teoremi in modo automatico. Giochiamo a scacchi in modo automatico. Tutte queste cose logiche. E questo si è perseguito per anni, no? Guarda cosa ha fatto poi. E anche con delle regole molto chiare e definite, in un certo senso. Ma poi, quando entri in quella logica lì, non è un posto in cui andare, perché solamente quelle cose lì si risolvono con le regole chiare. Tutto lo resto, le regole chiare servono a ben poco nel mondo reale, no? Quando uno guida il taxi qui a Roma, non è mica detto che un algoritmo logico risolva il problema del parcheggio, no? Uno deve un po' sul momento arrangiarsi. Ma questa idea mentale, culturale che c'era, la vediamo anche nel famoso caso dell'astronomo Carl Sagan, quando devono mandare il Pioneer 10 al di fuori del Sistema Solare, nello spazio interstellare, negli anni 70. La NASA gli chiede, facciamo un bel messaggio che sia comprensibile da ogni intelligenza aliena. A lui è lì che si mette, con ogni fisico lui, come me, con i suoi studenti di fisica, i colleghi di matematica, e fanno un piano, dicono, ah, secondo noi, qualunque forma di intelligenza, qualunque essa sia, si sarà evoluta nel nostro mondo, nel nostro universo, soggetta alle stesse leggi fisiche e matematiche, e quindi, prima o poi, dovrà capirle, usiamo queste come lingua franca, e fanno questa targa d'oro, condisegnate queste molecole di idrogeno, le distanze fra i due atomi, delle molecole di idrogeno, e poi una mappa delle spulsa nello spazio, perché sicuramente loro sanno dove sono collocate le pulsa, e in base a questa mappa, poi spieghiamo dove siamo, una serie di assunzioni fortissime, lui lo dà agli studenti, i quali riescono a decodificare, studenti di fisica teorica, si intende, l'avesse dato lo studente, di qualsiasi altra cosa, e poi, l'anno dopo, già preso da questo momento, un po' invasato, fa un messaggio ancora più potente, che manda col radiotelescopio, quindi almeno non è su un artefatto fisico, ma un messaggio radiofonico, ed è una sequenza di numeri basata sui principi dei numeri primi, che sono un concetto molto universale dell'aritmetica, zero risposta nel primo caso, e nel secondo non ha funzionato, ed è ovvio, perché se l'avessimo dato al tuo gatto, che purtroppo a casa non vedono, che è bellissimo, lui non avrebbe risposto, né ai numeri primi, né alla mappa delle pulsa, né all'atomo di Trojano, perché non gli interessa, ma non è che sia poco intelligente, sa imparare, perseguire gli obiettivi, ragionare, schivare i pericoli, cambiare abitudini quando necessario, se cambiate di casa, quello impara la strada anche per la casa nuova, per andare in bagno, non è che sia un animale stupido, bene, nessun alieno ha risposto, perché? Ecco, se l'avesse mostrato quel messaggio lì lui, a Leonardo da Vinci, o a Galileo Galilei, sarebbe finito in modo uguale, perché Leonardo non interessava niente, a parte che non sapeva cos'è l'atomo di drogeno, cos'è un atomo, cos'è l'idrogeno? Quindi tu dici che non abbiamo ricevuto risposta per quello, o ci sono anche altre... Questo è un problema diverso, poi se abbiamo gli alieni possiamo discutere separatamente, ma è ovvio che questo ci dimostra l'atteggiamento mentale, noi siamo l'esempio, le altre specie di questo pianeta non passerebbero il test, è un pochino estremo, no? Certo. E il test di Sagan. Peraltro non è anche la maggioranza degli homo sapiens sapiens passerebbero questo test. Ma è ovvio, tutti quelli della storia passata e molti del presente non hanno interesse, proprio non hanno interesse. L'antropocentrismo ci segue da sempre, il pianeta deve essere il centro dell'universo, poi l'evoluzione, la specie umana è il pinnacolo finale dell'evoluzione umana di ogni animale. Cioè, piano piano, con grande reluttanza bisogna accettare la verità, che purtroppo ci sono altri pianeti, altri animali, no? E questo sta avvenendo anche adesso, io continuamente si dice, sì, però la macchina non sarà mai capace di... Questa è una frase costante, anche Turing aveva nel suo articolo, questo costante, sì, ma la macchina, vabbè, forse riuscirà a guidare la macchina, forse riuscirà a fare scoperte scientifiche, ma non sarà mai capace di... Quello che viene dopo ci insegna molto su cosa vogliamo essere, no? Non sarà mai capace di commuoversi davanti a un tramonto, sai quella cosa? Allora stiamo cercando di riprodurre l'essere umano, non l'intelligenza. E c'è una grande confusione, ovviamente, no? Quindi questo è da discutere. Però si dice, ma facciamo un sistema che riesce a risolvere un problema che sia uno, che traduca, per esempio, che raccomandi un libro su Amazon, che trascriva un documento parlato in linguaggio scritto, che è utile. Caso dopo caso l'abbiamo risolto, non con metodi generali, di logica, di grammatica, in modo proprio pragmatico, statistico. Cioè, se c'è bisogno di andare a raccomandare un libro, beh, se uno ha letto Harry Potter 1 e 2, raccomandiamogli Harry Potter 3. Perché statisticamente tutti gli altri che hanno letto questi due hanno preso anche il terzo. Questo è il perché. Senza grande analisi. Sì, quindi diciamo, una delle prime applicazioni è stato il meccanismo di consiglio, appunto, automatizzato. No, ma anche, prima ancora, per la traduzione. Questa parola, seguo quella parola lì, tanto va alla gatta al lardo, che. Cosa ci dirò dopo di questa frase qua? Tra l'altro già queste erano, almeno nella concezione delle persone controintuitive, perché sapevo che Netflix all'inizio non aveva un sistema automatizzato, aveva una curation dei contenuti. E soprattutto le persone potevano farsi le liste di quello che avrebbero visto, solo che poi non le guardavano mai. Cioè, mettevano i film molto impegnati o comunque, diciamo, che corrispondevano all'idea che avevano di se stesse più che a quello che veramente volevano vedere. E poi, da lì in poi, anche loro hanno implementato invece un sistema automatizzato. I tempi di ascolto sono aumentati tantissimo, perché effettivamente era più preciso l'algoritmo di non l'autorappresentazione delle persone. Ecco, sono due argomenti da discutere a parte. Uno è quante cose possiamo imparare di noi stessi da questa nuova scienza. Perché stiamo scoprendo molte cose sul comportamento umano che non conoscevamo. Proprio osservazioni scientifiche che andrebbero, andranno, verranno sicuramente studiate. Il fatto che il linguaggio sia tutto sommato predecibile statisticamente. Il fatto che il comportamento umano, date certe quantità di dati, si possa predire. Però c'è anche da dire una cosa in più, che è fondamentale. Che qui assumi, raccontandomi di Netflix, che l'obiettivo sia aumentare le visioni. Mentre è probabile che l'obiettivo dell'aspirazione di questo utente sia ben diverso. No, chiaro. Quasi è un contrasto, diciamo, fra la necessità dell'azienda. Quindi va capito quale scopo sia raggiunto. Lo scopo dell'utente o lo scopo dell'azienda, che non sono lo stesso. L'allineamento dei due scopi è un discorso da fare. Mi sembra uno dei problemi centrali della nostra epoca, almeno discursi. Cioè, appunto, come si punta a guadagnare l'attenzione delle persone, massimizzarla. Così poi nel frattempo li somministri la pubblicità o comunque mantieni l'abbonamento. A discapito di qualsiasi altra cosa, cioè, ok, non di qualsiasi altra cosa, ma dell'interesse appunto della persona. Questo è un tema fondamentale, perché noi spendiamo sempre più tempo su questo genere di piattaforme, di social. Parleremo dopo, ma infatti il modello di monetizzazione è importante, ma vorrei parlarne dopo, per parlare di tecnologia adesso. Netflix, hai citato, è un esempio in cui a loro non entrano più soldi se guardi di più. A loro gli basta che ti abboni. E loro sanno benissimo che chi fa una binge estrema di troppe cose, è più probabile che si stacchi. Non hanno interesse a rovinarti la giornata con 4-5 ore. Non hanno queste maratone, no? Mentre altri canali hanno interessi diversi, no? Questo è un discorso di allineamento di obiettivi. Però, passi, passi, passi indietro, abbiamo imparato col linguaggio prima e con le raccomandazioni dopo e avanti, con mille e altri, milioni di casi, centinaia di casi, che si possono creare meccanismi in grado di comportarsi in modo autonomo. Vi dico le parole con cura, meccanismi, autonomi, che perseguono obiettivi. Un meccanismo autonomo che persegue i suoi obiettivi in modo adattativo, cioè impara, si adegua, fa un piano, ragiona, si modifica, da solo. Questo è l'intelligenza. Sapere come comportarsi quando non si sa ancora cosa fare, sapere cosa fare quando non si sa cosa fare, questa è l'intelligenza. Ti trovi davanti a una cosa nuova. La lumaca è in un altro giardino, non può avere la mappa del giardino, è un'altra stagione, è nata in primavera, assieme in autunno, la lumaca trova qualcosa da mangiare. Si adegua. È una forma semplice di intelligenza. Giochi a scacchi. La scacchiera è in una configurazione mai vista prima, non puoi averla memorizzata, ci devi pensare su. Arriva un'email, tu sei un filtro anti-spam, non l'hai mai vista, sto email, non l'hai memorizzato. Devi cercare di pensarci su e capire qualcosa. Tutte le volte che ti trovi davanti a una situazione interamente nuova, non puoi usare la memoria, devi fare qualcosa. E lì ci vuole l'intelligenza. Questo stiamo emulando nelle macchine. Questo, non l'umanità o la coscienza. Diciamo la capacità di reagire agli stimoli, di reagire ad un ambiente, in un certo senso è quasi una pressione, adesso uso un termine improprio, però rende forse l'idea quasi evolutiva. Cioè capire, per andare avanti, per risolvere il compito, e quindi facendo un paragone, che tu mi insegni a questo punto improprio con l'umano, sopravvivere. Però la macchina non è che deve sopravvivere, deve risolvere problemi. Sì, nel caso dell'evoluzione biologica è tutto molto più chiaro, perché l'obiettivo di una specie è quello che è, ogni essere vivente vuole restare vivo, riprodursi. E quindi in quel caso è molto semplice analizzare la cosa. Nel caso di un meccanismo fatto da noi, l'obiettivo glielo diamo noi, o almeno ci proviamo, perché non è mica detto. Quando ne facciamo Facebook, e diciamo, noi gli diamo gli obiettivi, e poi li controlliamo, l'intento è in buona fede. Vogliamo avere certe caratteristiche e ottimizziamo il meccanismo. Non è mica detto che funzioni. Quando il congresso americano chiama Zuckerberg di fronte a tutti quanti, lo sgridano, e gli chiedono, adesso smetti di far circolare questo tipo di notizie. Lui non è che non voglia, non è che lui sia uno. Certo. Non si può controllare. Non è che noi abbiamo il controllo di tutte queste cose. C'è delle cose che capitano per conto loro. Quando hai due milioni di persone, miliardi di persone, il meccanismo fa un po' quello che gli pare. Quindi, però l'intento è questo. Certo, poi magari c'è anche una questione, di com'era impostato all'inizio, che a quel punto di sviluppo è anche difficile cambiare. No, è la dinamica non lineare. La parolaccia, mi vergogno a dirla, è la dinamica non lineare. Non è garantito che noi possiamo controllare tutto. Un mercato, chi controlla i mercati? Tu devi provare a controllare i mercati. Fai del tuo meglio, ma è un sistema estremamente complesso. E i mercati non hanno due miliardi di parti in movimento come Facebook o come YouTube. Dopo parliamo di macchine sociali. Però, per il momento, oggi abbiamo degli algoritmi intelligenti, nel senso che ho definito. Abbiamo degli algoritmi in grado di perseguire obiettivi in modo autonomo, imparando, adeguandosi, facendo piani, ragionando se c'è bisogno, da soli. e dentro TikTok, dentro Instagram, ci sono. La mattina ci svegliamo, apriamo Instagram o TikTok. Sono costruiti in modo tale da trovare dieci video su dieci miliardi che saranno cliccati da noi. E questo vale per ciascuno degli utenti. E lo fanno imparando. Il loro obiettivo è chiaro. Sanno come raggiungerlo perché imparano. Sono vent'anni che conviviamo con gli algoritmi intelligenti e è questa, l'intelligenza artificiale. E poi discutiamo di come si fa delle relazioni con la società e l'impatto che ha. Sono disposto a parlare di tutto. Ma solo dopo si può discutere CPT. No, è chiaro. Appunto, però parliamo per un momento di questi algoritmi dei social. Cioè, sono l'esempio di quello che citavamo brevemente prima. Cioè, degli algoritmi che tendono a massimizzare il tempo che passi su quella piattaforma. Quindi questa cosa, diciamo, e non solo, poi anche a farti vedere per ottenere questo risultato a farti vedere delle cose che ti mettono un po' all'interno della tua bolla, che non ti stressino, ti mantengano in una zona di comfort, diciamo così, e confermino già quello in cui credi. Questo non è nella testa dell'ingegnere del software. Questo è un effetto emergente. Quello che ha l'ingegnere del software è un altro lato della medaglia, no? E forse è il caso di definire come lo fa le famose tre scorciatoie di cui parlo spesso. Il primo libro che abbiamo lì si chiama La scorciatoia, ma sono tre messe insieme, sono una grande scorciatoia. E la prima scorciatoia che abbiamo preso che ci ha fatto uscire da quel malinteso iniziale era dove non c'è una teoria usiamo tanti dati, la statistica. Quindi se non sappiamo, lo dico perché rispondo a questa cosa, se non sappiamo come predire la parola mancante o come tradurre un documento, se non sappiamo la linguistica, perché questa è la verità onesta, non comprendiamo in linguaggio umano a fondo, invece che aspettare una teoria che non c'è, usiamo la statistica e vediamo che certe frasi sono completabili in un certo modo e non in un altro statisticamente. La prima cosa la seconda è chi ci dà questi dati perché senza dati la statistica non si può fare. Potremmo assumere delle maestre elementari che danno i compiti per casa alla macchina, ma sarebbe troppo costoso. Raccattiamo i dati dove li troviamo, cioè in natura, cioè sul web. Seconda scorciatoia. La prima è la statistica invece della teoria. La seconda è i dati riciclati invece dei dati fatti apposta. Arrivo alla terza che è quella che mi serviva di citare. La terza scorciatoia è che ci manca il feedback direbbe l'ingegnere, cioè un'informazione che mi dica cosa deve fare la macchina quando la macchina ha fatto una cosa buona. Questo è il feedback. Non è mica facile chiedere all'utente. I famosi captcha anche erano questo, no? Sono mille strade. Parliamo di questo. Quando ho fatto una cosa buona e ho preso la decisione giusta o sbagliata, la macchina deve saperlo perché può andare in qualunque direzione. Questo c'è bisogno di un qualcuno che gli dà questo bit corretto, incorretto, corretto, incorretto. Questo su scala enorme è difficile da costruire e abbiamo deciso che noi prenderemo il feedback implicito, cioè il comportamento dell'utente in sé ci dirà quali film scegliere su YouTube. A questo punto si può avere il problema di decidere cos'è il feedback perché quello diventa implicitamente l'obiettivo della macchina. Tu dici i minuti spesi. Per molti anni c'era solamente il numero di click. YouTube cercava di ottimizzare il numero di click. Io cliccavo, guardavo 0,1 secondi e non davo quello era un click. Successo. Altro click. 0,1 secondi. Successo. Però click se il link portava esternamente ad esempio Clic ai film, ai video. Questo è YouTube. Ognuno deve decidere in casa qual è il loro feedback. No, ho detto Facebook per quello. Ho sbagliato. Sì, sì. Ma non è tanto diverso anche per Google. Si discute molto qual è il feedback che usiamo che ci definisce cosa vuole fare la macchina, qual è il suo obiettivo. Se io dico su YouTube massimizza i click sembra una cosa ragionevole a tutti. poi lo implementi e questa è una lezione che si impara bellissima. Questo mi raccomanda una serie di video che sono di pessima qualità ma che hanno un titolo molto attraente e mi fa cliccare. Capisco che è una schifezza e me ne vado. E la macchina lo fa sempre di più perché vuole massimizzare i click. Allora si è cambiato hanno messo il tempo speso. Allora a questo punto la gente non clicca più su un video che lascerà in un minuto e clicca su un video che non abbandonerà più. Questo ha incoraggiato un'altra serie di pratiche tra cui il video lungo e avanti così. Sono tentative della compagnia di avere delle metriche per controllare il meccanismo in modo per filtrare certe cose e tenere delle altre. Nella testa dell'ingegnere non c'è il concetto del comportamento emergente. È ovvio che quando Facebook ha detto vogliamo massimizzare le interazioni significative fra le persone sembra una bella cosa la gente deve interagire in modo significativo deve condividere molto. Ebbè condividere molto Facebook si è messo a cercare subito quel tipo di notizie che portano l'utente a condividerle cioè mandarle agli amici questo era il loro obiettivo per un periodo. Si è scoperto un aumento della negatività dei sentimenti negativi si è scoperto più tardi che la gente condividere specialmente le notizie che ti fanno arrabbiare quelle che ti indignano certo uno dice una cosa indignante che ti posizionano anche moralmente rispetto al mondo cioè dice a chi appartieni a cosa appartieni tutto può essere dopo interpretato ma l'interpretazione è il limite che ha ma il fatto è questo la misurazione questo veniva condiviso e appunto la spiegazione possibile è la gente tende a condividere le cose che generano una reazione negativa e mostrare agli altri per mille motivi questo è in effetto emergente non atteso non inteso e quindi poi si parlava chiudo il cerchio sono partito quando dicevi i video raccomandano Netflix raccomandano quei video che è sono diventato cosa dicevi ma ogni volta che la macchina raccomandano che tendenzialmente vuoi effettivamente vedere cioè hanno un'attinenza può sempre capitare di trovare delle cose fuori dal tuo loop di consigli però effettivamente quello che esce tendenzialmente è abbastanza fedele ah dicevi proprio questo dicevi si dicevi la macchina ti raccomanda le cose che ti fanno sentire convalidato socialmente o internamente ma questo non è nella testa dell'ingegnere l'ingegnere vuole massimizzare la metrica che gli han dato o i click o i minuti spesi o i post condivisi quella metrica che sia gliela dai la macchina non anche l'ingegnere o mai un algoritmo spontaneamente la massimizza è fatto bene ma quindi c'è un elemento di ma quello che risulta dopo scusa che finisco quello che risulta dopo è che è possibile quello che tu dici che la gente tende a scegliere quel tipo di cose che la fa sentire meglio socialmente approvata avanti così quello è un effetto collaterale che va discusso ed è interessantissimo stiamo scoprendo tantissime cose di noi stessi in questo modo no perché questa interazione fra una macchina che funziona in questa maniera e la la psichesia individuale che poi è collettiva degli esseri umani è una cosa assolutamente nuova e sono dei cambiamenti che hanno un impatto fortissimo sia sulla vita individuale di nuovo che su quella politica sociale delle nazioni sulle stesse forme di governo non so qual è più interessante in realtà perché entrambe sono molto interessanti sia l'aspetto individuale con gli effetti che può avere anche sull'umore depressione oppure anche senso di solitudine d'adeguatezza oppure anche euforia in alcuni casi e invece dall'altra questo cosa significa per le nostre forme politiche contemporanee insomma che sicuramente ha cambiato tantissimo il modo di raccontarci ma anche di concepire la politica negli ultimi 15 anni da quando esistono le social network ma quello che va detto bene chiaramente non sarà sorprendente perché è quasi un cliché ma i confini fra le discipline sono arbitrari e mutevoli adesso abbiamo una situazione in cui abbiamo un'interfaccia chiarissima fra le telecomunicazioni l'informatica la scienza sociale ed è anche parte della ricchezza di questo momento si può comprendere questo fenomeno usando strumenti culturali molto diversi diversificati intendo la psicologia la sociologia è un momento interessante perché il patrimonio culturale del tipico ingegnere del software magari non includeva la psicologia sociale domani lo includerà e che tipo di interazione c'è fra questi mondi però cioè c'è perché effettivamente gli ingegneri o comunque tutte le persone che si occupavano del sviluppo di queste tecnologie lo facevano da un punto di vista tecnico e adesso arriva invece tutta una valenza che è quella che dicevo prima ma anche volendo filosofica antropologica e come viene implementata cioè nel senso si discute di questa cosa ma c'è il modo giusto e il modo sbagliato c'è il modo facile e il modo difficile il modo facile è che tu metti al quarto anno di informatica un corso obbligatorio che si chiama tutto quello che non ti ho detto finora il corso obbligatorio di etica sociologia chiami un filosofo dell'ipatrice di filosofia e quello fa il suo meglio questo non serve a niente è come c'era una volta l'ora di religione alle scuole medie ti faceva fare sta ora ma non è che ti bocciavano in religione oppure c'è il modo giusto e qui va capito qual è io personalmente sono sempre stato da sempre l'idea è conta l'esempio è inutile fare grandi prediche conta l'esempio studente sta con te ti vede combattere con scelte difficili lo studente il dottorando in questo caso perché l'altro non ha modo di vedermi il dottorando ogni giorno vede che ho la possibilità di fare qualcosa vantaggioso magari non interamente rispettabile poi vede che non l'accetto vede che piuttosto faccio un articolo in meno si insegna con l'esempio cosa vuoi insegnare in classe ma quando tu hai iniziato a studiare questi argomenti ti aspettavi questo ritmo di sviluppo ti aspettavi più rapido magari oppure che non le avresti viste queste cose il ritmo è molto veloce infatti quando eravamo a parlare di GPT vediamo il ritmo come accelerato io ero molto convinto da subito sono 30 anni ormai la mia tesi di laurea l'ho fatta a fisica ma l'ho fatta su teoria statistica del machine learning e ho dovuto insistere perché in quegli anni non c'era a Trieste ho trovato un redattore a Milano che aveva la cateta come me di intelligenza artificiale ma lui negli anni 80 e 90 che era un po' un inverno dell'intelligenza artificiale c'è questa distinzione a parte l'inverno dell'estate era proprio presto per l'Italia era proprio presto scusate per chi non conosce questa specificazione questa denominazione gli inverni sono i periodi in cui la ricerca sull'intelligenza artificiale sembra essersi arrestato comunque in un momento di forte rallentamento e poi invece arrivano in genere dei periodi dove riprende con forza e fa grossi progressi sì come adesso ho trovato sempre gente molto generosa e molto aperta e nella mia vita una fortuna immeritata e questo professore qui mi aveva detto vuoi fare machine learning? Fai però guarda che è un argomento secondario è meglio fare robotica è meglio fare computer vision e io avevo questa impressione forte che era un problema strategico nel senso che se lo risolvi ha risolto un sacco di cose e quindi ostentivamente volevo risolvere il problema strategico e in più mi ero reso conto che come si faceva il machine learning negli anni 80 e 90 i libri che lui mi aveva dato erano proprio ricette pratiche senza grandi profondità io volevo fare la teoria quindi mi sono messo di impegno a convincerlo e volevo fare la teoria matematica alla base del machine learning perché poi è due volte strategico e quindi era una grande convenzione che avevo sono 30 anni che ci lavoro non solo io ma certo c'è tanta gente brava in giro lui solo una condizione marcoso malvico si chiamava poverino buonanima mi aveva dato una sola condizione mi aveva detto se vuoi fare quello che vuoi tu fai quello che vuoi tu però che per lui era nuovo ed era inconcepibile però prima ti leggi tutti i libri che ti do io e poi hai permesso di fare quello che ti pare e quindi mi ricordo questa giornata al politecnico che mi ha fatto il giro della biblioteca lui l'ha fatto quasi sadicamente questo questo quest'altro beh la propria libertà bisogna guadagnarsene insomma me li sono letti tutti erano libri di logica induttiva ed è come sempre tante volte nella mia vita benvenute in seguito e anche queste cose sono benvenute tu lo spieghi in maniera divulgativa ma dettagliata invece in quest'altro libro Macchina Sapiens entrambi li trovate sotto in descrizione nel link ai libri degli ospiti di PDR ma diciamo dovendolo spiegare in una maniera insomma non troppo tecnica comprensibile come funziona una rete neurale una serie di livelli come interagiscono fra di loro entrano in formazione come funziona effettivamente allora se tu vuoi rovinare l'algoritmo di youtube e avere zero click mi fai descrivere in televisione una rete neurale senza la lavagna con la lavagna uguale è comunque noioso ma è più noioso ancora senza la lavagna però la descrizione che fai nel libro non c'è una lavagna e devo dire l'ho trovata abbastanza comprensibile ma vi posso dire una cosa non dirlo a nessuno solo voi a casa segreto sto trovando molto difficile parlare di cose importanti quando il mio non è colpa di nessuno ma io parlo con gente che non può comprendere alcuni concetti perché la nostra scuola non gli ha dati e non costerebbe molto al mio amatissimo liceo classico fare un'ora in più non toglierebbe la poesia e la profondità di quegli anni meravigliosi che ho avuto se avessi fatto un'ora in più di matematica non è che cancellerei la storia dell'arte la storia della filosofia sarebbero ancora lì non riesco a dire a casa cos'è una funzione differenziabile giusto? no direi no e senza la funzione differenziabile posso solo fare metafore che poi sono un po' in voglio però diciamo che all'inizio si voleva modellare anche lì un concetto il sistema nervoso umano dagli anni 40 abbiamo un modello matematico di sistema nervoso dei neuroni le cellule nervose il modello è talmente semplificato da essere interamente diverso da un neurone vero ma si chiama un neurone e quindi una rete di neuroni è una rete neurale ma credetemi non ha quasi nulla in comune con le reti biologiche e neurali la vera cosa buona è che le reti neurali sono differenziabili non possono dire così si possono modificare facilmente c'è un meccanismo automatico un algoritmo automatico che ce le modifica e quindi chi fa imparare dall'esperienza questa è la versione proprio del bignami se avessi un giorno una classe dello scientifico magari potrei fare qualcosa nel quinto anno ma poi tu dici una cosa molto interessante che io ignoravo come tante altre ma che noi stiamo cominciando in realtà nonostante le abbiamo costruite a capire cosa succede dentro le reti neurali almeno quelle diciamo più piccole per capire cosa succede dentro quella di chat GPT ad esempio usiamo questa che si chiama BERT se non sbaglio però in realtà cosa succede veramente in una rete neurale più grande non lo sappiamo c'è una parte di opacità perché la macchina fa diciamo così usano l'espressione fa un po' da sé e ancora non abbiamo capito bene però il risultato ci sembra buono ci stiamo saltando tanto e spero che a casa seguano perché siamo di nuovo tre pocellini sono saltati di nuovo abbiamo detto che si può sostituire un po' di statistica un po' di machine learning al posto di altre cose scorciatoie un modo dei tanti per imparare dell'esperienza è il machine learning il machine learning cos'è una classe di algoritmi che imparano dall'esperienza quindi gli faccio fare una cosa cento volte e ricevono cento volte un risultato diverso lentamente questo impara la prossima volta cosa fare impara vuol dire cosa vuol dire imparare cambiare il comportamento questo vuol dire abbiamo dei algoritmi che cambiano il comportamento con l'esperienza un modo di fare queste cose è una rete neurale la rete neurale lasciamo stare come è fatta ma è un meccanismo matematico che è in grado di adattarsi non la costruiamo fisicamente è emulata nel computer tra l'altro quindi di fatto è un tipo di algoritmo ma è un meccanismo che si adatta se gli mostriamo alla rete neurale cento esempi questo film lo guarda Daniele questo no nel tempo questa rete neurale riuscirà a riconoscere altri film del tipo che ti guardi lo farebbe in modo automatico e avanti così per ogni altra cosa gli email di spam le mosse giuste negli scacchi le reti neurali sono un tipo di algoritmo che impara dagli esempi e gli esempi li prendiamo dall'interazione con gli utenti nel caso di Netflix o dal web nel caso in cui insegniamo il linguaggio quando io studiavo a scuola erano piccolissime la rete neurale che studiavo ho fatto una delle mie tesine al master su una rete neurale specifica aveva avuto 12 neuroni l'abbiamo simulata l'abbiamo studiata matematicamente fatto il mio rapportino consegnata 12 neuroni si poteva ancora addestrare su una macchina sul tavolo oggi chat GPT GPT3 ha 175 miliardi di neuroni ecco questo è il cambiamento fondamentale che c'è stato da quegli anni sì e quindi diciamo quella su cui si studia o che comunque citavi tu vediamo ad esempio come impara a costruire una frase però appunto ogni strato in più aggiunge complessità aggiunge potenzialità e tu dici a un certo punto questo che era un modello linguistico poi sembra in grado di capire anche cose che vanno oltre il linguaggio cioè ad esempio se gli chiedi di immaginare cosa sta pensando una persona in una determinata scena situazione il modello è in grado di farlo e come funziona come fa cioè nel senso se fai una domanda del tipo no ci sono due persone un uomo una donna stanno facendo una cosa cosa penserà la donna dopo questa o l'uomo dopo questa sequenza di fatti lui ti dice ti dà una risposta plausibile questo cosa significa ma intanto si è passati allora al linguaggio giusto? no questa però va oltre il linguaggio nella nostra conversazione aveva fatto un passo enorme prima si parlava di comportamento semplice dicevo l'intelligenza è per seguire obiettivi eccetera compiere degli atti raccomandare dei film eccetera e questo ci spiegano gli ultimi vent'anni e tutti gli effetti che bisogna discutere sociali da qualche anno c'è un fatto nuovo che il stesso tipo generale di meccanismi amplificato cioè cresciuto di dimensioni in modo enorme da qualche anno è in grado di generare linguaggio di ottima qualità come è possibile? allora la seguente cosa è successa abbiamo un meccanismo talmente grande che riesce a trovare relazioni statistiche nelle frasi ma non nel modo semplice e banale si prende Whatsapp si scrive una frase quello mi raccomanda la prossima parola ho come finire la frase che sto scrivendo l'autocompletamento quello guarda letteralmente le parole a sinistra le altre due parole e prevede la prossima parola questo non è quello abbiamo fatto si può fare di meglio questi nuovi modelli sono in grado di imparare a riconoscere le parole il contesto la grammatica le parole che si riferiscono l'una all'altra all'interno i pronomi capire quale nome è rappresentato da questo pronome e avanti così perché è un sistema che ha miliardi di parti in movimento in modo gerarchico questo abbiamo conosciuto si chiama GPT GPT dopo che l'abbiamo addestrato riesce a proseguire una frase che è iniziale gli diamo l'imbeccata una frase quasi completa gli manca un pezzo lui predice prevede il modo più ragionale di finirla ma non è locale guardando l'intero contesto questo lo ha imparato come? torniamo alle ascoltatorie non era facile insegnargli una cosa del genere perché c'è bisogno di miliardi di miliardi di esempi non si può insegnare a mano abbiamo deciso non io quelli là hanno deciso di prendere dei documenti di testo già esistenti su internet cancellare delle parole a caso chiedere alla rete neurale di guardare tutto il contesto intorno e indovinare la parola mancante perché? perché in questo modo la risposta è già nota a noi cioè automaticamente gli si può mostrare la risposta corretta quando sbaglia non c'è bisogno di gente si chiama apprendimento autosupervisionato self-supervised quindi io prendo una mano un pezzo di wikipedia cancello tre parole lo mostro a gpt indovina cosa ha tolto lui tira a indovinare sbaglia gli mostra la risposta esatta si modifica i pesi e i parametri interni e ripetiamo con miliardi di pagine miliardi e miliardi lentamente sembra incredibile diventa sempre migliore a indovinare le parole mancanti ma sempre migliori così tanto che alla fine ha una la quantità che usiamo per misurare la performance si chiama la perplexity la perplexità ma diciamo ha un'ottima prestazione nel completare fa pochi sbagli fa pochi sbagli la perplexità cioè quella che noi proviamo la risposta il computer quando deve indovinare la parola mancante può avere una su due plausibili o una su mille noi lo incoraggiamo a eliminare tutte le possibili candidati e restare con pochi candidati puoi tira indovinare alla fine una cosa è indovinare uno su due se io voglio finire la frase qual è l'animale sul divano potrei dire un gatto potrei dire un felino sono due parole ma una su due va bene ma la parola gerania l'abbiamo già tolta la perplexità è quanto sono incerto al momento di indovinare e la macchina è costruita in modo matematico per minimizzare al massimo la perplexità più dati gli diamo più riduce ed è veramente brava è un ottimo algoritmo a quel punto lì sta roba qua predice le parti mancanti si voleva usare questo per fare altre cose utili già in sé socialmente utili e invece si è scoperto che molte delle cose che gli si volevano far fare le sapeva già fare per esempio per farla molto breve completare l'ultima frase di un caso clinico avendo letto tre pagine di sintomi con la diagnosi non è banale quella parola mancante lì non è un pappagallo ha compreso la medicina ha compreso il caso clinico uguale completare il libro giallo di Agatha Christie con il nome del colpevole vuol dire aver compreso la storia completare le parti mancanti si è rivelato un ottimo espediente per dare alla macchina la supervisione che le serviva senza pagare è un'altra grande scorciatoia meravigliosa dopo le altre che abbiamo fatto e questo diventa utile solamente se abbiamo modelli meccanismi più grandi di alcuni miliardi di neuroni prima non funzionerebbe ecco un'altra scorciatoia prima c'era usare la statistica invece delle teorie usare i dati riciclati invece dei dati fatti a mano usare il feedback implicito invece che chiederlo in modo implicito e ora abbiamo visto anche crescere in modo enorme le dimensioni di tutto ma ordine di grandezza e usare feedback autosupervisionato ci chiedere alla macchina di sfruttare quello che c'è però la macchina capisce quello che sta facendo o è semplicemente è semplicemente si fa per dire ma è un discorso statistico veramente statistico cioè lì nei testi che ho elaborato che ho digerito diciamo ci sarebbe quella parola allora io metto quella parola sì ma non è che lui guarda la parola vicina e indovina lui guarda l'intero passaggio l'intero contesto si chiama e ci mette la parola che è grammaticalmente corretta grammaticalmente sintatticamente e semanticamente per farla chiara lui non sbaglia non mette un articolo dove ci va un nome non mette un singolare dove ci va un plurale e non mette un animale sbagliato dove ci va il gatto gli esempi sono la questione sia compreso o no è una questione di definizione come intelligenza noi pensiamo comprendere è un'esperienza emotiva dell'essere umano se noi siamo disposti a estendere questo significato questo vuol dire avere compreso compreso in senso latino avere compreso informazioni sul mondo sul linguaggio e usarle per fare le previsioni ecco la sfida è questa se io ho un meccanismo e questo ci porta di fronte ai limiti nostri e torniamo all'inizio e torniamo alla questione del paradigma e del nostro ruolo dell'universo se io ho un meccanismo e gli dico questo è un caso clinico tu cosa pensi che abbia e questo ci azzecca che terapia gli daresti e questo ci azzecca un altro meccanismo vi dico questa è la ricetta della pizza fammi una pizza e lui la fa tale e quale un altro vi dico qui abbiamo un esame di scuola di maturità fammi il tema e lui me lo fa e al quarto al ritmo vi dico traduci questo in francese se io do il tema agli insegnanti di italiano il francese la pizza la do al cliente la terapia la do al paziente se sto qua ogni singola volta correttamente prevede le cose quando smetteremo di dire che non ha capito veramente ma diciamo quello che intendo io è se ha una comprensione di quello che sta facendo che va al di là cioè è quasi una auto rappresentazione che è al di là della capacità di fare qualcosa cioè quindi se ha una meta rappresentazione di quello che sta facendo deve avercela per forza la rappresentazione interna perché come farebbe come farebbe a eseguire queste chiaramente deve rappresentare il mondo non c'è il conto se rappresentare il mondo è ciò che basta si può dimostrare che viene rappresentato il problema è che c'è il problema del traguardo in movimento si continua a muovere il traguardo perché non è facile per noi accettare delle cose che non vogliamo accettare no ma non è una questione cioè io te la ponevo in maniera veramente speculativa non è che io mi senta oddio sono un po' preoccupato non è che mi senta attaccato mentre facciamo questo discorso dall'intelligente artificiale tutti i sei umani è qua a parte lui che ci girano gli altri tre no no ma è chiaro che poi questo è un discorso ampio che aprile tante altre strade ma è chiaro che anche tipicamente nelle nostre narrazioni a un certo punto l'umano ha sempre la meglio sulla macchina perché ha il grande cuore no questo ci rassicura funziona però è chiaramente insomma un po' wishful thinking no però non è quello che volevo dire proprio a livello filosofico anche per capire un po' come come funziona ad esempio non so se avrei confidenza con il lavoro di Antonio Damasio sul ruolo delle emotività nello sviluppo dell'intelligenza e della coscienza umana e che diciamo al di là del paradigma illuminista non è pura razionalità si interfaccia sempre con una base biologica è un sistema che si autoalimenta diciamo fra emozioni biologia e cervello rappresentazione quindi questo è un sistema se vuoi se mi passi il termine freddo cioè nel senso da cosa prende ha l'istinto a sopravvivere da cosa prende le mosse uno dei tanti benefici è che non solo attraversiamo i confini fra discipline ma impariamo qualcosa che non sapevamo forse in questo grande progetto che impiede di fare macchine intelligenti l'intelligenza è una cosa separata dalle emozioni dalla coscienza dall'autocoscienza dal libro arbitrio dalla cultura può esserlo diciamo nel caso dell'uomo non lo è l'uomo come dire la mano non è un ginocchio può essere che nell'uomo abbiamo entrambe le cose la mano è il ginocchio ma la mano non è un ginocchio l'uomo ha l'intelligenza e anche le emozioni però non sembra necessario la definizione che abbiamo detto prima perseguire obiettivi in modo autonomo in modo adattativo in modo imparando facendo i piani questo non richiede le emozioni nel caso dell'essere umano abbiamo anche le emozioni ed è vero che un metodo molto semplice in tutti gli organismi per fare cose utili è usare le emozioni quando un uccello ha paura si nasconde e quindi vede un gatto prende paura si nasconde e quando il gatto invece viene attaccato da un altro gatto si arrabbia e cambia subito gli artigli lenti e combatte le emozioni contano certo è un modo per controllare i comportamenti non è l'unico e si può fare un meccanismo cognitivo che fa le sue cose risolve il cruciverba fa le tabelline ma non ha le emozioni è importante distinguere tutti questi livelli chiaro e l'autocoscienza è una cosa ancora diversa e forse più vicina alle emozioni perché probabilmente è l'impressione la sensazione di essere qui ora è più una cosa emotiva che una cosa razionale perché quando una macchina sa le proprie coordinate e l'orologio e quindi ha le informazioni di dov'è e quando è sono qui ora sono a Roma diciamo noi sì ma questa non è autocoscienza e conoscenza del posto e dell'ora ma io sento qualcosa ecco per riuscire a fare progresso è importante separare nella scienza e ora stiamo lavorando su meccanismi che hanno comportamenti intelligenti sono consapevole che dovremmo un pochino anche negoziare le parole Alan Turing lo diceva chiaramente nel suo articolo del 50 che in futuro si potrà parlare di macchine intelligenti senza essere sfidati continuamente da qualcuno perché si aspettava che la parola cambierà significato e io noto che la parola volare oggi si applica anche agli elicotteri ma è nata per gli uccelli che fanno una cosa interamente diversa nel tempo le parole cambiano comprendere il mondo essere intelligenti dovrà includere alla fine le macchine perché altrimenti faremo continuamente finta che c'è questo meccanismo che fa tutto quello che facciamo noi non lo fa ancora per carità dovesse succedere e non vorremmo mai riconoscere che ha qualcosa in comune con l'intelligenza è un problema di parole alla fine sì sì ma potrebbe anche essere che la coscienza umana quantomeno sia alla fine un errore un sottoprodotto dell'evoluzione che tutto sommato ci fa stare male e basta cioè nel senso comunque a livello di coscienza della propria mortalità l'uomo è un animale è l'unico animale che ha una coscienza così estesa dalla propria caducità dal proprio destino tragico qui non mi pronuncio non è il mio non è il mio posto di pronunciarmi però secondo me al momento facciamo più facilmente progresso se ci concentriamo sulle cose pratiche cognitive che possiamo controllare comprendere misurare ok e magari nel frattempo lungo la strada impareremo delle cose che ci saranno utili per queste altre domande al momento ma perché tu trovi attualmente un'ostilità che rischia di fermare la ricerca sull'intelligenza artificiale non è l'ostilità chi è l'ostilità sono tutti contenti il problema è il malinteso il malinteso nasce dall'interno nasce dall'esterno la confusione la confusione e il malinteso sono i nemici della scienza noi vogliamo fare piccoli passi chiari con calma capire le cose documentarle riprovarle cento volte fare una teoria ci vuole tempo ma i malintesi vuol dire usare le parole in modo ambiguo cambiare la domanda nel corso della risposta tutto questo non aiuta certo ma tornando invece alla domanda di prima più o meno tu scrivi o anche forse con un certo grado di definizione in realtà abbiamo idea di cosa succede in una rete neurale limitata ci sono cose che ci sfuggono le reti più grandi cosa ci sfugge? dunque il problema è come hai fatto il meccanismo uno dei grandi difetti di questi meccanismi qui è che non rappresentano al loro interno allora se io mostro alla macchina cento miliardi di documenti e questa se li studia tutti quanti impara a completare le parole mancanti al punto che li ha letti tutti così bene che li completa sempre senza sbaglio anche un libro nuovo mai visto prima cancello delle parole in più lo fa bene quindi un libro che non ha visto nell'addestramento quindi generalizza queste conoscenze dove che parte vanno in un meccanismo che ha 175 miliardi di parametri cioè di devo definire questa parola di numeri non è facile capire cosa cos'è imparato allora cos'è un parametro immaginate la radio la radio una volta ai miei tempi aveva la manopola per sintonizzare il canale era una rotella che si girava nessuno si ricorda la manopola per sintonizzare anche in macchina certo io me la ricordo ecco un pianoforte avrà non so quanti tasti non sono un esperto ma ha le corde da accordare e si sintonizza una per una accordare il pianoforte sintonizzare la radio in inglese stesso verbo tuning fra tutti i comportamenti possibili ne scegliete uno fra tutti i canali possibili se ne becca uno fra tutti i pianoforti possibili si prende quello accordato se io ho 175 miliardi di manopole che controllano il comportamento di GPT ho bisogno di un modo per sintonizzarle e la cosa bella è che si interagiscono se io cambio questa le altre devo spostarle anche loro è tutto un gioco molto si chiama non lineare molto complesso ho calcolato che se ne mettessimo questi numeri di ciascuno di questi immobili su una spread sheet avremmo un chilometro di excel avremmo un chilometro quadrato quindi il parcheggio davanti all'aeroporto un chilometro quadrato pieno di numerini piccoli così sarebbe la conoscenza che è dentro GPT non è facile andare lì a interpretare cosa ha imparato sta macchina non è scritto in italiano o in inglese o in termini chiari non è una formula sono tanti i numeri il compito di tenere questa roba qua è in equilibrio perché basta cambiare un numero la macchina cambia tono cambia convinzioni non si sa tenere questa roba in equilibrio non è banale e c'è un algoritmo che si chiama il transformer è una rete neurale che ha il compito di tenere questa cosa in equilibrio guarda i dati e sintonizza questa cosa ci mette dei mesi perché addestrare questo sono mesi di lavoro poi addestrato altri dati arrivano però non è leggibile non essendo leggibile io non so cosa sa si deve fare una cosa diversa è un po' come la differenza che c'è fra fare l'esame allo studente o aprirgli il cranio guardare dentro il cervello cercare di leggere il cervello dello studente non è facile infatti non credo che si faccia ma gli fanno domande dall'esterno però un pochino si è fatto anche dall'interno quindi alcuni di questi neuroni della rete neurale sappiamo cosa fanno e sappiamo che i primi livelli sono del 96 livelli i primi livelli imparano l'analisi grammaticale il secondo livello l'analisi logica un po' di più si impara anche al terzo livello si legge ma da lì in poi non abbiamo un modo di interpretare cosa viene rappresentato all'interno e non è chiaro cioè quindi in finale dobbiamo fidarsi di quello che ci dice a meno che non si facciano gli esami dall'esterno allora dall'esterno si può fare una serie di esami gli si dà l'esame di ammissione al college americano per la biologia e questo passa all'esame con il massimo dei voti quindi qualcosa sa l'esame vuol dire una serie di domande nuove perché ogni anno in America tre volte all'anno c'è questo esame di ammissione con domande nuove come la maturità che viene aperta la busta si tira fuori l'esame non c'è online questa macchina si addestrata leggendo tutto il web tra l'altro tutto il web non so se rischio di spiegare il concetto sarebbe da passare del tempo ho sbagliato a dire che ci basta un'ora ma leggendo tutto il web c'è il rischio che dentro ci siano le risposte e gli esami ma gli esami di quello che c'è lì ogni anno sono nuovi tre volte all'anno gli si dà la domanda di biologia e questo passa all'esame quindi questo si farebbe anche alle persone ma non si può guardare dentro in questo momento non c'è un teorema che garantisca niente noi dobbiamo fidarci di lei sostanzialmente nel senso che potrebbe essere anche più intelligente di quello che ci mostra per assurdo cioè potrebbe già esserci stata un'esplosione intelligente che ci ha superato però decide di farci vedere che è lì lì la seconda fase no che la macchina abbia secondo i fini è fantascienza ma che sia meglio di noi in alcuni compiti è chiaramente vero può batterci a go può batterci a scacchi può leggere 50 lingue si è letta già nella GPT-3 10.000 libri chi ha letto 10.000 libri? fai i calcoli e perché secondo te non può avere secondi fini? cioè perché non può avere secondi fini? andrebbe dimostrato non c'è nessun nulla che lo lasci pensare non c'è nulla che lo lasci è come dire la medusa la conchiglia il mellusco dentro la conchiglia sulla spiaggia a secondi fini lui è un mellusco fa il suo lavoro persegue i suoi obiettivi non è che deve avere tutta questa cosa che abbiamo detto l'autocoscienza le emozioni questo è un meccanismo ma questo è chiaro però diciamo essendoci una parte che ci sfugge come possiamo sapere ancora se gli obiettivi sono quelli che gli abbiamo dato noi? allora questo problema è importantissimo e va bene va bene chissà se quanti pezzi abbiamo saltato ma ormai seguiamo questa logica è la questione delle abilità emergenti speriamo di fare tutto quanto progressivo ma non è facile è vero che avendo insegnato la macchina a svolgere quel compito semplicissimo di completare le parti mancanti sono emerse altre abilità tra cui quella di tradurre tra cui quella di programmare in Python Python è un linguaggio di programmazione riesce a scrivere programmi di ottima qualità in Python incredibile chi gliene ha insegnato? nessuno riesce a fare i riassunti a scrivere in rima e avanti così ha acquisito abilità alcune si vedono solamente dopo avere addestrato la macchina su un certo numero di dati enorme tra l'altro e le chiamiamo abilità emergenti cioè emergono spontaneamente da sole a un certo punto non sono quelle che sono direttamente insegnate in modo esplicito quindi uno potrebbe dire a questo punto cosa chi esclude che non emerga qualcos'altro esatto magari crescendo ancora di più i dati lì è utile fermarsi da un lato abbiamo visto che già mettendo Facebook in contatto con la gente emergeva delle cose nel senso che Facebook vuole farci cliccare non è che vuole farci arrabbiare vuole farci cliccare indirettamente salta fuori chi lo sapeva che la gente condivide e clicca le cose che fanno arrabbiare e pensa rabbia però non era l'obiettivo del programmatore è emerso questo può emergere ancora e con GPT l'obiettivo è semplice altre cose emergono infatti sa fare i sillogismi chi gliel'ha chiesto? nessuno però li fa allora tu mi dici ma e se fosse qualcos'altro emerso andrebbe dimostrato andrebbe misurato andrebbe testato questo è il primo anno che c'è sta macchina il secondo anno salterà fuori se c'è qualcos'altro tutto sta a non non metterla in posti delicati in questo momento perché alla fine è vero che ci sono diciamo tipi di intelligenza diversi come sottolinei tu nel primo libro nella scocciatoia ma è anche vero che poi c'è anche un discorso quantitativo qualitativo nel senso che un gatto appunto tornando sempre un povero gatto non sa come funzionano le lezioni degli umani e non c'è modo di spiegarglielo c'è un passaggio che mi è saltato mi è sbagliato a saltarlo posso dirlo fra il primo libro e il secondo fra la scocciatoia e macchina sapia c'è un passo importante ed è Alan Turing il grande fondatore dell'informatica innovatore della chitografia scienziato di proporzioni storiche e lui ci scrive questo libro verso gli ultimi anni della sua vita questo articolo se le macchine possono pensare l'articolo si chiama computing machinery and intelligence macchine calcolatrici meccanismi calcolatrici calcolatori e intelligenza e lì si chiede ma le macchine possono pensare ed esamina le obiezioni risponde dice io per pragmaticità propongo di trattare come se fossero pensanti quelle macchine che sono in grado di conversare con noi su qualunque argomento senza essere smascherate lui lo sa che questo è altissima come come mettere l'asticella del salto con l'alto a tre metri e come si dicesse propongo di definire saltante quell'atleta che riesce a passare questa la messa posta alta certo perché ha detto almeno se va d'accordo che se fa questa cosa qua sarà intelligente è ovvio che il gatto non la passerà al test di Turing è ovvio che la cavalletta non la passerà e credetemi le cavallette sono intelligenti quando arrivano le cavallette nel mio giardino io passo faccio i cavoli con grande cura la cavalletta sa quello che vuole sa come trovarlo sa come ottenerlo usa il cervello gli occhi le mandibole ma non passa il test di Turing il gatto neanche lui era un po' estremo dice ci sono altri casi ma questo è un caso garantito se conversa e dice io penso che entro fine secolo faremo delle macchine in grado di conversare in questo modo e poi cambieremo l'uso del linguaggio le chiederemo intelligenti è un bel articolo filosofico infatti l'ha messo su un giornale di filosofia mind non di informatica e ha un sacco di consigli e di avvertimenti che dobbiamo discutere alla fine una cosa che lui dice è attenzione potrebbero diventare in grado di apprendere da sole di automigliorarsi ecco questo è un esempio la reazione il gatto si è svegliato è sentito il gatto non ha la sua camera la sua telecamera intendevo e quindi la domanda qual era si parlava di GPT allora questo GPT è una grande sorpresa perché nel giro di pochissimi anni dopo decenni di fallimenti abbiamo creato una macchina che può conversare come voleva Alan Turing e che passa di fatto in modo non è stato fatto in modo rituale ma sembra chiaro che possa passare il test di Turing per farlo non solo conosce il linguaggio conosce anche il mondo perché le domande che gli faccio io sono domande sul mondo e le risponde come ha imparato? ha imparato leggendo tutto il web 10.000 libri Wikipedia e avanti così e facendo emergere delle qualità emergenti hai ragione non è uguale a Facebook quello che può emergere qui può essere ben più avanzato perché sta collegando distillando le conoscenze umane e poi continua ad emergere io ho messo nel libro un fatto importantissimo per me che nella storia del mondo abbiamo scritto 120 milioni di libri di questi 120 milioni molti sono ancora esistenti nelle biblioteche delle università del mondo e Google da 10 anni quindi ci ha un programma molto molto sofisticato per programma intendo un progetto per scannerizzare tutti i libri esistenti ed ha dei soldi in università una dopo l'altra porta delle macchine costruite apposta delle persone ha del software è tutto fatto apposta hanno speso miliardi e scannerizzano questi libri in tempi rapidissimi e li tiene parte vanno su Google Books il sito web books.google.com e l'altra parte poi rimane all'università e si sta litigando ora sul copyright perché i libri più antichi sono libri gratis i libri più recenti si possono acquistare c'erano anche prima si e va discusso Google ha questo progetto di scannerizzare tutti i libri non saranno 120 milioni che sono quelli mai scritti ma finora ne ha fatti 20 milioni almeno forse 30 milioni li troviamo su Google Books prima o poi mi sembra chiaro che troveranno il modo di farli leggere ai loro meccanismo fra la versione no fra 5 anni 10 anni quella versione là che succede quando abbiamo un meccanismo che si è letto 30 milioni di libri li ha collegati li ha distillati in tutte le lingue questo è per definizione il tipo di cose che si chiamano sovrumane cioè al di sopra dell'essere umano così come AlphaGo aveva battuto il campione mondiale di Go dopo aver giocato un numero di partite di Go contro se stesso sovrumano nel senso che ci volevano 300 anni per giocarle certo macchine che hanno hardware memoria ed esperienza superiore alle nostre prima o poi sviluppranno alcune abilità che noi non possiamo sviluppare c'è poco da fare non è che sia una questione talmente controversa già oggi fanno delle cose che non sappiamo fare giocare a Go è un buon esempio e guardate tutta quella vicenda c'è proprio un microcosmo in cui si vede anche appunto come ci consideriamo noi rispetto alle macchine perché a un certo punto si chiama lui Isedol di nome non mi ricordo Isedol è un signore coreano che ha giocato a Go contro Alfa Go e ha perso la storia è molto bella molto interessante ha i suoi momenti di dram perché a un certo punto riesce a vincere a parte che arriva là convinto di vincere facile contro questa macchina poi alla fine all'inizio perde poi riesce a vincere una partita e poi la partita dopo la cosa più interessante la macchina fa una mossa che nessuno capisce e che diciamo viene interpretata narrativamente come un esempio di creatività che di solito non si attribuisce alle macchine e quindi c'è proprio la macchina fa esattamente quello che noi narrativamente storicamente non 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 riusciamo ad attribuire alle macchine cioè fa una una cosa incomprensibile creativa ecco è solo uno degli esempi infatti è uno degli esempi però diciamo è molto interessante li ho scritti deliberatamente con storie storie scene e storie perché secondo me è più facile comunicare mediante storie e anche ci obbligano i scrittori ad essere onesti perché dobbiamo documentarci mentre scrivere teorie è facile e quindi in entrambi i casi diciamo guarda il modo migliore di addestrare la mente umana sono le storie secondo me è utile se vogliamo fare un paragone è anche il modo migliore di tenere onesti i scrittori che tendono a essere pigri bisogna cercare le storie e verificarle e quando la storia è trovata e verificata e documentata quella si racconta e una storia è questa di Lisa Doll perché conosco due dei programmatori che hanno fatto quel programma e quindi posso controllare ma c'è anche la storia di Ada Loveless che non ho mai incontrato perché è morta prima di me la quale anche si occupava di di creatività ci viene il gatto lì forse sarà in camera sì sì va bene che peccato però parla di lui prima dicevi che conosci quest'altra persona no è signora Vittoriana e quindi è morta in epoca italiana però voglio dire sono storie sono storie che si documentano AlphaGo diciamo ha inventato ha scoperto ha eseguito una mossa che nessuno comprendeva e che era molto utile e nessuno capiva perché ora si studia questa mossa prima o poi ancora non è successo ma non sarebbe scioccante se un altro programma come GPT-10 fra tanti anni si leggesse tutti gli articoli scientifici di Nature e di ogni giornale di chimica e biologia e trovasse un collegamento fra due argomenti remoti che nessun essere umano ha collegato non sarebbe non credo che mi sentirei sminuito anzi mi sentirei confortato e poi c'è la questione dell'automobile ora si misura la performance con il numero di incidenti mortali su centomila chilometri al momento un'auto autonoma fa più incidenti di un essere umano tipico dateci alcuni anni verrà il giorno in cui piano e piano poi la macchina farà meno incidenti lentamente abbiamo macchine che fanno cose sovrumane nel senso che hanno prestazioni superiori e hanno accesso a esperienze superiori già oggi i calcolatori attascabili Google credo che per i ragazzi del futuro non sarà uno scandalo questo ad esempio il campo medico potrebbe dare dei risultati interessanti perché in questo momento tutta una serie di data sette enormi di persone che sono state malate in passato o che comunque hanno dei rapporti con i servizi sanitari vengono processati e potrebbero uscire delle cose che la medicina attuale non si aspettava neanche ma come in ogni fiaba c'è il come si chiama in italiano c'è il caccio c'è qualcosa c'è sempre qualcosa la macchina potrebbe imparare da quelle esperienze ma non potremmo noi leggerle nel senso che sia alfa go che gpt non sono leggibili da noi e quindi si entra in questo spazio in cui le conoscenze esistono ma non in forma teorica leggibili da noi esseri umani e quindi tramandabili e questo è inesplorato completamente si quindi questo apre due problemi uno ti devi fidare alla macchina e due rimani dipendente dalla macchina è molto complesso è inesplorato ed è complessissimo perché a quel punto lì abbiamo un oracolo di cui e c'è un rapporto che è noto dalla mitologia noi davanti all'oracolo che mi affascina da sempre però è chiaro che se questa cosa qua gli facciamo gli esami di tutte le università e le diagnosi e continuare a passare gli esami e fare le diagnosi correte sarà una bella sfida per noi assorbire questo fatto e ora si lavora molto ma senza grandi speranze per rendere leggibili l'interiore di questa macchina e credo che la sua potenza nasca proprio dal fatto che non usa il linguaggio umano la sua capacità è che usa il linguaggio di lunga più ricco e non ha i preconcetti che abbiamo noi siamo pieni di preconcetti questo se vuoi è anche una cosa che dal punto di vista simbolico fa somigliare a una divinità perché le divinità non si scandagliano nel profondo hanno un volere su cui diciamo i profeti si possono esprimere o diciamo i ministri di una religione ma non si sa mai veramente qual è la volontà di Dio sì qui questo riguarda la nostra reazione emotiva alla tecnologia ed è ovvio che molti di noi rispondono a tecnologia in questo modo qua usando il pensiero magico però non voglio discutere perché non è il mio campo e sono molto convinto che uno deve stare al suo posto ma il pensiero magico ovviamente è un tipo di reazione che da sempre abbiamo di fronte all'ignoto allora cosa vuol dire se parliamo delle nostre limitazioni per un secondo noi nasciamo come esseri umani e abbiamo delle aspettative alla nascita c'è gente migliore di me che può parlare nei biologi che sono meglio di me queste cose io mi aspetto che il mondo sia organizzato in oggetti il fatto che ci sia un oggetto questo chi è un oggetto è un oggetto distinto da questo oggetto anche se sono a contatto uno potrebbe dire no questo è un singolo oggetto io so mi aspetto che siano due perché io nasco con l'idea che il mondo contiene oggetti e che gli oggetti siano incompenetrabili cioè io ho due bicchieri che si incontrano non passano uno tra verso l'altro si scontrano si spingono e che esistono anche relazioni causali per esempio il contatto può produrre degli effetti tutto questo è noto agli infanti ma questo diciamo come a priori kantiano come categoria si nasce così non so kant ma non voglio parlare di kant si nasce così i primati anche come lo sappiamo facciamo vedere agli infanti dei giochi di prestigio che sembrano violare questo fatto facciamo passare una macchinina dietro uno schermo e ne saltano fuori due l'infante reagisce con l'aria sorpresa anche la scimmia perché si nasce con questa creativa queste cose sono utilissime a navigare il mondo perché il nostro mondo è fatto così e quindi è utile partire con quell'idea lì ci aiuta subito a organizzare le esperienze che altrimenti sarebbe molto difficile partire da zero ma sono false se noi andiamo a guardare il mondo quantistico scusate non volevo parlare di cose è un esempio solo poi mi fermo nel mondo quantistico non è più così due elettroni sono indistinguibili non hanno posizione possono passare verso l'un l'altro possono scomparire ricomparire infatti non lo capiamo la nostra mente non è in grado di capire quel mondo lì deve accettarlo siamo ottimizzati per la nostra fascia di grandezza diciamo è giusto così il nostro ambiente come ogni altro animale non esiste l'intelligenza universale noi siamo specializzatissimi come tutti gli altri esseri intelligenti sono specializzatissimi anche noi ma la macchina che stiamo facendo non ha quelle aspettative che abbiamo noi ne avrà altre ma non ha quelle è possibile che possa imparare e comprendere delle cose che saranno per noi incomprensibili dobbiamo considerare il fatto che un giorno le nostre creature comprendano qualcosa che per noi è incomprensibile si è questo che tendevo quando ti dicevo che possono essere equiparabili a una divinità ma dal punto di vista di diciamo appunto di avere questa capacità poi la divinità puoi considerarla un parto della mente dell'uomo però diciamo come personaggio ha quella a quella a quella caratteristica si non voglio pronunciare la divinità perché la provrò malintesa l'ho citato male però vale anche per gli animali perché alcuni animali comprendono cose che non comprendono non c'è bisogno di andare fino a Dio ogni entità può comprendere aspetti diversi del mondo e per me sono incomprensibili la mia gatta in casa in casa sa se c'è un gatto in giardino chi gliel'ha detto però lo sa e quindi sono i sensi che sono diversi ma anche il modo di processare le informazioni gli interessi mille cose sono diverse il gatto sa delle cose che io non so certo le sue fratelli lo sanno quando entra qualcuno nella nostra famiglia dalla porta tra i piani sotto e quando entra qualcun altro perché la verità è che noi vogliamo distinguere sbagliando il corpo dai sensi dalla mente e tutto insieme è la stessa cosa quindi avere i sensi superiori è già un fatto di cognitività superiore poter vedere una cosa che io non posso vedere perché posso vedere l'ultravioletto facciamo finta l'ape può vedere l'ultravioletto o il pipistrello può sentire l'ultrasuono ha già accesso a informazioni sovrumane che io non posso accedere e infatti poi c'è quello scenario che viene raccontato in tanti modi uno era il film ex macchina cioè fondamentalmente un'intelligenza artificiale molto evoluta però confinata nel caso del film è questo android che viene confinato in questa casa in mezzo alla foresta pluviale del suo creatore in altri casi ad esempio nel problema della graffetta per per clip problem di Bostrom è invece una macchina che non è connessa a internet e che diciamo è in grado di fare tutto quello che serve per produrre più graffette possibili a un certo punto inganna il suo guardiano un umano si fa connettere a internet esce da dove è confinata e diciamo rende prima tutto il mondo poi l'universo una gigantesca macchina per produrre più graffette possibili ovviamente stermiando l'umanità fra le altre cose e adesso siamo in un punto tu lo dici nel tuo libro che a certo punto i dati finiranno i libri finiranno le pagine web finiranno saranno già state processate e probabilmente queste intelligenti artificiali saranno aperte al mondo attraverso dei sensori quindi insomma telecamere microfoni quelli che già abbiamo magari il feed degli impianti che già abbiamo che sono non dico ogni presente ma comunque molto molto presenti ecco questo passaggio qua tu come lo vedi ti spaventa? beh al momento tutto si basa non tutto molto sul linguaggio e verso le immagini quindi due modalità si chiama modalità in questo campo la macchina è già multimodale perché riesce a processare immagini linguaggio e audio e a collegarli questo è il passo 1 ho bisogno di due passi il passo 1 è questo cosa vuol dire che rappresenta in modo unificato l'interno suo deliberatamente è costruita così rappresenta con un simbolo unico il gatto come parola il gatto come immagine il gatto come suono ha un simbolo per gatto che non sappiamo qual è ma c'è c'è uno stato interno è incoraggiata a fare questo e lo fa la si addestrava anni fa usando le immagini quelle di Ascalier perché sono gratis su internet miliardi di immagini quelle di Ascalier ora si usa per esempio YouTube che ha già il suono l'immagine e trascrizioni presenti su grande scala anche le discrepanze si eliminano perché la statistica è potente e rimangono le relazioni utili scusami prima citavo i CAPTCHA anche i CAPTCHA servivano a alimentare si non volevo distrarre l'utente perché è un giro troppo lungo ma è un modo per avere dati multimodali quindi senza sapere ogni volta che uno compila il CAPTCHA è uno dei modi sono tanti trucchi per evitare di pagare uno cercavo di tenere il discorso ma hai ragione hai ragione il punto è che più in poi tutta questa roba finirà però quello che non finirà è l'interazione col mondo quindi le telecamere delle autostrade i microfoni uno può anche fare un rover e mettere il rover nell'antatis dove non c'è nessuno andare in giro e sperimentare col mondo tutte le macchine della Tesla sono collegate già insieme come una flotta e quindi i dati continueranno a venire credo che ci saranno quelli che si chiamano in economia i diminishing returns come quando i ritorni i ricavi diminuiscono come si chiama in economia in italiano? sì ma io l'ho sempre sentito in inglese la legge dei diminishing returns già adesso più dati mettiamo non è che si continuerà a crescere in modo sempre uguale rallenteranno perché le cose le macchine le aveva già viste tante volte rivederle per la millesima volta non è che ti insegna molto come l'ultimo 2% della curva di paretto sì sì sempre così l'ultimo pezzettino però si è visto che conviene pagare quel costo già oggi già oggi per aumentare le prestazioni di GPT di un di uno scatto bisogna decoplicare i dati il prossimo scatto decoplicare ma a quanto pare ha senso pagare quel costo ogni progresso ogni GPT generazione sono 10 volte più dati e il miglioramento non è 10 volte più grande sarà così ma il punto è che prima o poi arriviamo al limite della scalabilità la questione rimane è questa ed è una questione che mi pongo seriamente professionalmente quello che abbiamo fatto adesso il large language model il transformer quell'algoritmo lì quando abbiamo l'hardware illimitato quando abbiamo i dati che abbiamo è sufficiente a completare il viaggio qualunque cosa significhi o manca qualcosa e ci sono due scuole di pensiero una scuola di pensiero pensa che mancano delle cose per esempio la capacità di ragionamento cioè il ragionamento inteso come ragionamento come pianificazione come trovare una serie logica di passaggi quello non è non è presente alcuni dicono ma cosa intendi? c'è un po' devo definire la frase e poi te lo dico alcuni dicono no questo non è necessario emergerà se è necessario basta centuplicare i dati la macchina ha fatto quello che ci serve altri diranno no questo è essenziale e non è spontaneamente ragionabile cosa è un ragionamento? un ragionamento è una parola molto ambigua ma molto importante noi lo usiamo spesso per ragionamento deduttivo che in realtà ha solo un tipo deduttivo è classico Socrate è un uomo tutti gli uomini sono mortali quindi Socrate sarà mortale osserviamo una cosa lui è un uomo abbiamo un universale che abbiamo postulato sono tutti mortali gli uomini deduciamo una cosa che non possiamo vedere deduciamo nessuno ha visto che è mortale ma lo sospettiamo perché è un uomo e ogni uomo è mortale questo è un ragionamento semplice la catena può essere enormemente lunga e io posso chiedere a una macchina e dire puoi dimostrarmi in base a questi assiomi questo teorema date queste cose qua si può o no dimostrare questa cosa qui ed è il classico vecchio tipo di AI degli anni 60 c'è un meccanismo molto ben noto che insegnavo anch'io nei primi anni che insegnavo che dimostra i teoremi quando è dimostrabile e ti dimostra anche quando non puoi dimostrarle questa è deduzione logica ma non è l'unico modo esiste l'induzione quindi da un sacco di esempi pratici postulare un universale ogni uomo finora è morto miliardi quindi saranno tutti mortali non è garantito logicamente ma è plausibile induzione che era il problema del pollo che si aspetta che il padrone li voglia bene finché non li tira il collo esatto ma c'è anche l'abduzione quindi io vedo il gatto che dorme quindi l'altro gatto forse dormire anche lui c'è un sacco di cose che si possono fare per ragionamento ma molto spesso c'è questa idea di fare un piano a molti passaggi io faccio questa mossa perché lui farà quella mossa io faccio quest'altra mossa l'idea di ragionare è molto vicina all'idea di pianificare di fare una serie di passaggi guardare il futuro io la chiamo lungimiranza questa cosa qua la lungimiranza non è innata per sé in questi meccanismi la questione è può emergere o no da sola finora non è emersa le macchine quando fanno sbagli fanno sbagli per mancanza di lungimiranza in questo momento cioè quindi dici quando c'ha GPT c'ha delle quelle che tu chiami allucinazioni ti dà delle informazioni sbagliate no quello è proprio uno sbaglio non è solo quello fa tanti tipi di sbagli questo meccanismo ma un tipo di sbaglio che fa è proprio non è in grado di partire nella risposta tenendo in mente dove vuole arrivare come questa intervista noi due mi si avessi e quindi parte questo è il formato questo è il formato così ed è diciamo il suo bello immaginati una frase con struttura palindromica vuol dire che io voglio iniziare la frase con delle parole per finire in fondo con le parole all'inverso che però abbia senso mica facile è possibile ma devi partire sapendo cosa vuoi fare alla fine se tu parti e poi ti accorgi che non riesci a ti sei incastrato in un angolo cosa fa GPT non è in grado di pianificare verrà forse risolto aggiungendo questa capacità o forse emergerà al momento si sta discutendo ma il punto è ma come potrei vedere io questa incapacità in una domanda che ti posso fare c'è cosa che non fammi un esempio di cosa dove si vede scrivi una frase italiana di senso compiuto che abbia le ultime parole uguali alle prime parole ma invertite ok non lo sa fare questo prova magari l'ho già imparato ieri non lo sapevo capisci l'idea è un esempio o io dico voglio andare con la macchina fino a a stazione termini no quella non funziona ho un posto più lontano ho mille strade quale faccio devo fare una serie di scelte ma alcune scelte sembrano stupide adesso ma mi pagano in futuro per esempio non è che fare la fila lunga in un vicolo affollatissimo perché questo mi porta sull'autostrada e per l'autostrada ci guadagno vuol dire lungimiranza tutto questo si fa nell'intelligenza artificiale classica non emerge spontaneo in quella neurale cioè quindi i navigatori non funzionano con le tine orali no no sono classici perché abbiamo informazione completa nel navigatore abbiamo la mappa esatta abbiamo informazione temporale no non c'è bisogno quindi ecco il punto è prima o poi dovremmo capire se questo metodo qua ha un limite o no avrà dei limiti come sempre questa è una fase in cui esploriamo ma in più questa intelligente è diversa da noi come sottolinei tu però alla fine proviene da noi uno proprio perché è stata creata fisicamente da noi ma anche perché tutto quello che ha imparato l'ha imparato da noi quindi magari dotarla di sensori poi acquisirebbe anche le capacità invece degli animali studiandoli cioè quella che noi non possediamo ma sai la verità anche se l'abbiamo fatta noi Turing aveva questa bella frase che diceva non c'è bisogno di comprendere come funziona dentro un seme per farlo germogliare noi abbiamo messo questa macchina in piedi l'abbiamo collegata al web l'algoritmo lo comprendiamo perché è banale è un pezzo di matematica basta passare una settimana lo capisci ma quello che lui fa a contatto con il mondo non sappiamo capirlo perché l'algoritmo è solo una parte è l'interazione con un mondo complesso che non comprendiamo quindi però ad oggi il mondo con cui interagisce è un mondo umano non interagisce con niente che non sia i documenti fatti da noi iscrizioni a noi e avanti e così e già lì non capiamo niente esatto quello che sto dicendo immaginati quanto a quanto il livello di complessità ulteriore è irraggiungibile per noi inaccessibile più che irraggiungibile può arrivare se lo fornisce anche di sensori sì sì di alcune cose la scienza esiste comunque grazie a Dio e continuiamo a continuare che continui esistano e quindi possiamo prevedere delle cose ci sono dei sistemi che sono impredicibili noi pensiamo in modo intrinseco come l'atmosfera quindi dare a lui i dati insomma l'atmosfera è caotica quindi è caotica no? cosa vuoi fare? se gli dai i dati che abbiamo noi se gli dai i dati in più non so per dire alcune cose invece potrebbe essere possibile perché non è mica detto per esempio i mercati sono caotici anche loro ma non è mica detto che magari ci sono delle regolarità talmente macroscopiche talmente inconcepibili per noi che non abbiamo mai considerato ma che magari esistono quel tipo di regolarità che a noi sfuggono perché abbiamo la mente che ho detto prima con la conoscenza per i concetti magari questa macchina ha bisogni più aperte perché non è nata con i nostri pregiudizi né altri e quindi è in grado di contemplare regolarità macroscopiche sociali nei mercati certo penso che ci siano dei fondi di investimento che lavorano su questo ah non c'è dubbio ci provano tutti anzi questa è la cosa bella che riescono a farci dei soldi anche se non funzionano in che senso quello è un mondo così non basta promettere però la verità è che ah dici a livello di investimenti ma quello lì che fa l'azienda che fa la chiude è chiaro è vero eh sì d'altro canto la posta in gioco è così alta sì ma lasciamo stare quelli lì il punto è che è possibile che un meccanismo comprenda cose del mondo che noi non comprendiamo anche per il fatto che ha meno pregiudizi o diversi pregiudizi quindi non sospetta non si aspetta e non ha bisogno tra l'altro di rappresentare il mondo in forma narrativa come noi e in forma causale come noi perché noi abbiamo bisogno di cause e di effetti di narrazioni di tutto questo cosa qua di oggetti di entità di obiettivi magari uno può predire perfettamente la diagnosi della malattia senza questo ah certo sì in più le nostre narrazioni sono spesso e sempre più spesso in realtà nel nostro momento storico anche connotate moralmente in maniera molto forte e questo personalmente trovo anche che perdono di efficacia ma sicuramente perdono di capacità descrittiva del mondo perché soddisfano un'altra logica che è quella appunto della pagamento personale io ho un metodo non voglio cambiare discorso ma magari la prossima volta che mi inviti te lo racconto noi siamo capaci di raccontarci e di credere a qualunque storia basta confabulare una serie di parole un po' come GPT siamo in grado di generare un discorso pseudo coerente al suo interno quello che non abbiamo istintivamente e dobbiamo lavorarci su è l'onestà intellettuale di obbligarci a verificare tutto ah non c'è dubbio quella cosa lì che si chiama l'onestà intellettuale diventa sistematizzata nel metodo scientifico in cui tu rifiuti ogni asserto che non sia almeno in principio verificabile o meglio falsificabile c'è una serie di cose che abbiamo elaborato nel tempo che ci aiutano a tenere sotto controllo questa tendenza perché la tendenza che abbiamo è fortissima di spiegare tutto con un qualunque mito e lì la differenza fra la scienza e le altre forme di conoscenza è una delle tensioni fondamentali secondo me nell'essere umano è il fatto che quando siamo riusciti a fare questo abbiamo fatto così tanti progressi in così poco tempo è emblematico perché paradossalmente nel momento in cui riesci a contrastare in maniera organizzata uno dei tuoi istinti più profondi che è quello a narratizzare la realtà renderla un oggetto una storia indipendentemente dal dato di realtà poi puoi fare progressi incredibili io guardo nell'ultimo libro questo che ascolto il podcast l'ho già sentito diverse volte ma mi sono occupato della vicenda della Xiella malattia degli olivi in Puglia lì è un esempio lampante cioè c'erano delle storie che erano buone storie che non avevano alcuna attinenza a quei dati di fatto e si sono diffuse quasi come un'epidemia nell'epidemia in realtà parallela a quella delle piante e hanno impedito il contenimento di questa malattia che ha poi ucciso 21 milioni di alberi da 10.000 che c'era all'inizio un po' di più forse ma comunque sembra una parabola in realtà è un fatto vero ma è come una parabola si può imparare molto da questo noi dobbiamo imparare io credo ad avere grande compassione e tatto e rispetto quando dobbiamo eliminare una storia dalla mente di qualcuno perché è brutto perché le storie sono importantissime ma una storia falsa può produrre dei danni ed è un atto ostile obbligare qualcuno a confrontare il fatto che la storia è falsa e ci vuole grandissimo tatto e l'abbiamo visto con la pandemia anche se no non funziona cioè l'opposizione andare lì col tuo blocco di fatti e metterlo di fronte alle persone che sono dentro una narrazione molto forte genera un rigetto e sì sì prima non lo crederanno e non hanno bisogno di accettarlo non c'è una legge che li obbliga ad accettarlo e in più perché lo rifiutano perché il costo di gestire internamente questa dissonanza dissonanza interna è troppo alto però con grande cautela con grande rispetto con grande cortesia dire ma forse io rimpiango io ho un amico che è morto di covid e ho sbagliato a portargli i fatti duri e crudi avrei dovuto trattarlo diversamente ovviamente non si era vaccinato sì sì lo capisco capisco è proprio la via d'accesso come diciamo prima la nostra mente ma ci sono motivi evolutivi per cui siamo così evidentemente ci sono stati dei momenti in cui la nostra capacità di raccontare storie è stata decisiva e ce la portiamo dietro da allora ma anche adesso la società sarebbe totalmente diversa e saremo animali diversi se non fossimo così narrativi e tra l'altro paradossalmente questo questo mondo che descrivevi all'inizio con questo genere di intelligenze artificiali sui social che tendono un po' a tenerci là anche un po' contro la nostra volontà per certi aspetti se mi passi l'estremizzazione hanno creato un mondo dove le narrazioni sono ancora più importanti di prima sono sempre state importanti dall'alba della specie però adesso veramente quasi ogni cosa è diventata narrazione mentre emerge potente invece un'intelligenza quella artificiale che non usa questa logica è interessante questo questo contrasto contemporaneo le scuole devono adeguarsi intanto la scuola deve insegnare alla gente che tutto si può raccontare ma non tutto è vero e quindi come riconoscete una storia fasta da una vera è importante da sapere da subito il metodo storico filologico scientifico quello che è il metodo e in più c'è il fatto che tante cose non sono raccontabili o non è necessario come hai detto tu sono delle cose che un'equazione matematica è un'equazione è una relazione vera magari o falsa ma non è raccontabile è un altro tipo di conoscenza e la scuola deve fare tante cose non è facile perché hanno sì ma è anche l'ecosistema informativo in cui ci troviamo io ho visto da quando faccio questo mestiere che non sono centinaia di anni però anche nel pubblico che viene all'incontro letteraria ai festival eccetera c'ha un bisogno molto più forte ultimamente di storie molto chiare definite manichee con i buoni da una parte cattivi dall'altra nessuna attenzione al fatto che c'è sotto la storia e questo colpisce perché la letteratura era un luogo dove sì le storie sono centrali ma erano centrali anche le sfumature erano centrali anche la parte indecifrabile ora questa cosa qui sta un po' scomparendo ovviamente non del tutto però nella sensibilità più diffusa a favore invece di storie molto chiare definite e tutto sommato che non è così importante se siano reali io questa cosa mi faccio esperienza continuamente condivido mi succede sempre e ripeto è lì che ho imparato l'importanza del tatto e del rispetto ma teniamo presente che è un'altra delle caratteristiche della nostra mente che si aspetta che il mondo sia fatto così e quando il mondo non è così lo fa diventare così purtroppo funziona in certi casi non in altri e lì con grande cautela non è facile perché anche io non saprei cosa rispondere dipende dall'età una cosa dice un bambino un'altra cosa dice un adulto è un'altra cosa dici a un ministro che deve decidere non è la stessa cosa che dice un bambino perché che senso ha e quindi sono tutte cose vere o anche certe volte non c'è bisogno di insistere sulla verità dei fatti ma noi siamo fatti così abbiamo bisogno di semplificare un mondo cosa fa ecco la sfida finale un giorno ci penso visto che abbiamo deciso che la mente umana non è infinitamente universale ma è specializzata ed è perfettamente ottimizzata per un certo tipo di ambiente e di compiti cosa fai se domani il mondo è più complesso di così racconto una bugia ma per certi spetti è già così perché la nostra mente è diciamo penso sia cablata grossomodo per dei piccoli gruppi di cacciatori e raccoglitori da 150 questa è la grande sfida vivi in un mondo in cui non sei adattato per quel mondo i problemi sono di molto più complessi di quelli che la tipica mente umana può comprendere però dobbiamo navigare in questo mondo e in più tutti quanti noi vogliamo anche votare decidere avere la nostra opinione andare a parlare in pubblico di cose che è uno dei 1500 motivi per cui io cerco sempre di come dicevo prima dico quello che so il peso zitto mi trovo dei piedi perché ci caschiamo tutti se no sì sì è chiaro sì questo diciamo è l'argomento l'unico vero argomento che secondo me vale la pena discutere contro le nostre attuali forme di governo di cui io sono per il resto ampio sostenitore anche abbastanza devoto diciamo a livello di democrazia occidentale però effettivamente l'ombra che c'è sopra il nostro sistema è la capacità di gestire questo grado di complessità che aumenta continuamente in maniera efficiente efficace ma io credo che il gioco sia già non fare un disastro è tanto già non distruggere tutto è tanto già non fare del male è tanto poi non è che si può trasformare il mondo a ogni generazione si fa quello che si può no ma io penso che sia sempre stato un po' limitare il danno tutto sommato fino adesso ha funzionato abbastanza senti due scenari due storie appunto la migliore o comunque positiva rispetto a come vuoi andare a finire con le macchie intelligenti e invece quella negativa o se vuoi anche una intermedia quella che ti auspichi però diciamo allora io credo che sia così non avremo un paradiso di infinita ricchezza dopo domani grazie a questo anche se verranno gli investitori a convincervi che questa è una tecnologia in più delle tante tecnologie che abbiamo inventato è molto potente è trasformativa ed è un momento storico bisogna essere onesti il mondo stiamo attraversando una fase abbastanza storica ma è un'altra tecnologia non credo che il mondo imploderà domani mattina a causa di questo quindi questi due estremi non aiutano nessuno in mezzo c'è il mondo degli adulti in cui bisogna navigare una situazione nuova con grande responsabilità e complessità dire sì a tutto e no a tutto è semplicissimo è semplicissimo basta scrivere un programma di computer di tre righe e dice sempre tutto sì tutto no in mezzo di volta in volta caso per caso decidere cosa fare cosa non fare come mitigare come vigilare è il mondo degli adulti e credo che ci si svegli ogni mattina si fate proprio meglio si studia tutto quello che si può studiare si conosce quello che si può studiare e si sceglie il meglio che si può scegliere in quel momento lì e domani si ripete e troveremo una strada in mezzo per capire meglio e gestire meglio penso che avremo dei grandi vantaggi da questo meccanismo avremo dei benefici magari ci sono delle qualità emergenti anche per noi che non riusciamo a vedere chi lo sa speriamo ma il punto è che quando ci chiedono ma perché lo fate visto che c'è anche un rischio ogni tanto c'è anche un rischio qua e là e la risposta è che possiamo inventarci una risposta razionale e dire ma ci conviene perché così risparmiamo soldi della mutua o della difesa è una scusa non è motivo razionale è una spinta fondamentale nostra che abbiamo sempre avuto noi siamo i discendenti di quelli che hanno giocato col fuoco la mamma diceva no in Africa quando eravamo ancora prima della grande immigrazione non si tocca il fuoco puoi fare un disastro puoi bruciare l'intera pianura puoi morire e alcuni non tutti alcuni non hanno ascoltato la mamma e hanno giocato col fuoco quelli lì quelli disobbedienti siamo noi i loro figli e siamo fatti così ora abbiamo trovato questo vaso di Pandora ci pensiamo ma forse dentro c'è qualcosa di pericoloso che facciamo apriamo o non apriamo giochiamo col fuoco o no e tu cosa pensi che faremo onestamente no io penso che lo apriremo ma questo afferisce anche alla curiosità come dici tu al desiderio di potere perché comunque questo è un genio che ci si illude appunto di poter far uscire dalla propria lampada e non quella degli altri che ti dia un vantaggio assoluto e poi la terza motivazione forse quella più razionale è la speranza che ci aiuti a sconfiggere la morte sì sì beh questo non avverrà ma la nostra natura però è questa la nostra natura è sempre stata questa io credo che non si cambia la natura facilmente noi lo apriremo guarderemo dentro faremo il possibile fino in fondo per usarlo abbiamo delle cose interessanti siamo stati capaci anche di fermarci in passato se c'è un motivo valido chiaro non nebuloso noi siamo in grado di clonare le pecore da 30 anni ma non lo facciamo c'è un motivo ci sembra ripugnante è inconcepibile clonare la gente non lo si fa per autoregolamentazione dei scienziati che non clonano la gente se ci fosse una chiara motivazione che ci chiarisce che è ripugnante fare questa cosa qua perché capita qualcosa io credo che siamo in grado di fermarci ma al momento non c'è però c'è quel problema che ci discutevamo prima cioè c'è una parte che ci sfugge c'è una parte che non riusciamo a capire di cosa sta succedendo quasi tutto non possiamo leggerlo ma non siamo non c'è nessun indizio neanche lontano anche conoscendo quello che sappiamo della macchina che abbia internamento un mondo interiore non ha niente se domani i discendenti di questa macchina cominciassero a dare segni di bisogna essere pronti bisogna pensarci adesso bisogna essere pronti e io dico una cosa ottimistica perché ci credo all'ottimismo abbiamo fatto un mezzo disastro con l'ambiente a suo tempo ora stiamo ripulendo all'indietro 50 anni di malintesi questo non sta avvenendo con questa cosa qua noi con l'informatica moderna con l'intensità artificiale stiamo facendo le leggi verso il futuro non è che stiamo rimediando a niente nessuno si è fatto ancora male e abbiamo già parlamenti di tutto il mondo abbiamo il summit a giugno qui in Puglia dove si incontrano i G7 che parlano di come gestire questa cosa prima del primo problema questo è segno di grande progresso secondo me sì poi anche diciamo tutta la questione nucleare fino adesso non ci siamo fatti esplodere poteva essere cioè poteva finire lì l'umanità tutto può andare male tutto può andare bene tutto sta a essere ripeto sono decenni ormai che abbiamo una tecnologia che è in grado di porre fine alla vita sulla terra o comunque la vita umana però no tocca a ferro però il punto è che esattamente non siamo così perfetti come pensiamo e non siamo così imperfetti noi siamo tutto sommato un buon compromesso al momento va bene Nello grazie mille i tuoi libri sono Macchina Sapiens e La Scorciatoia entrambi sui temi che abbiamo discusso oggi li trovate nella descrizione sotto nel link con tutti gli ospiti i libri degli ospiti di PDR grazie mille grazie a voi